Dunque, 29 anni, 29 volte, 29 concerti, dal 1990 la prima volta che ho fatto San Siro e che ho fatto 75.000 persone, per cui è stata una svolta epocale, che prima solo gli stranieri facevano gli stadi in Italia pieni, gli artisti italiani riuscivano a fare al massimo le curve. Quindi è stata una svolta totale, da quel momento in poi gli stranieri tutte le volte che vivono in Italia devono bussare.